Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Premetto che oggi non avevo intenzione di fare un video, ma tutti, veramente tutti, mi avete segnalato questo video che sta spopolando su Facebook, l'hanno anche riportato vari siti di notizie e mi sento in dovere di doverne parlare, non tanto per la notizia in sé per sé, ma perché insomma sono state fatte varie accuse comunque sia il governo giapponese che quello italiano e sono state date varie visioni e forse anche qualche speranza che non necessariamente corrispondono tuttavia alla verità. Si parla di questo farmaco contro l'influenza chiamato Avigan che è stato sviluppato e commercializzato dalla Fujifilm Holdings in Giappone. Sembra che questo farmaco sia stato testato in Cina e sia dimostrato piuttosto efficace nel trattamento del Covid-19. Ragazzi io so benissimo che fin dall'inizio c'è stato molto interesse per quanto riguarda comunque il coronavirus ben prima che arrivasse in Italia o che si verificassero i primi casi in Italia. Uno dei primi paesi contagiati a seguito della Cina è stato appunto il Giappone. Infatti ricordo che proprio prima di partire, quando ero partito da Bergamo, sembra quasi ironia della sorte però tutti i miei amici mi fanno ma sei sicuro di andare in Giappone? Stai attento che insomma c'è il coronavirus, potrebbe scoppiare un'epidemia eccetera eccetera. E infatti io non ho parlato, ho fatto vari video, ho cercato su vari siti, ho chiesto anche a varie persone anche del settore tra cui un biologo italiano che lavora a Yokohama e ho deciso di partire comunque. Tuttavia poi, vabbè, sapete meglio di me gli sviluppi che ci sono stati in Italia. Pur essendoci stati dei casi che si sono verificati prima di quando si sono verificati in Italia e in Giappone, la curva comunque di questo virus e dell'epidemia non è stata uguale a quella che si è verificata in Italia o comunque che sta avvenendo in Europa, anzi addirittura oggi negli Stati Uniti sono stati riportati un sacco di casi. E dal momento che sembra che comunque questa epidemia in Giappone sia contenuta, ci sono soltanto mille casi di contagiati accertati in Giappone. Questo ha fatto molto pensare, ci sono stati comunque molte persone che hanno tirato varie ipotesi e hanno fatto varie speculazioni sul perché il Giappone non stia avendo i problemi che sta avendo l'Italia o a dirvi la verità tutto il resto dell'Europa in questo momento in Giappone. Quindi questa ipotesi di questa cura miracolosa ha potuto prendere piede, e forse questo è stato uno dei motivi che ha permesso a questo video di girare così tanto. Questo video mi è arrivato da 15 persone diverse, è veramente assurdo. Tra le varie ipotesi che sono state fatte sul perché comunque la curva di questo virus corona in Giappone non abbia avuto comunque un aumento esponenziale come si sta verificando in Italia, ci è parlato comunque del fatto che i giapponesi abbiano meno contatti, non si abbraccino come gli italiani, non ci si dà la mano quando ci si saluta, e anche il fatto che indossino le mascherine, che per quanto moltissimi virologi, questa è una mia opinione, in realtà dicono che comunque la mascherina non serva per proteggersi dal virus, c'è anche da dire che però sono gli stessi virologi che ti dicono che comunque che se sei infetto e ti metti la mascherina hai meno probabilità di contagiare le altre persone. E dal momento che ci sono comunque molti contagiati che portano il virus, tuttavia non mostrano alcun sintomo, il mettersi la maschera secondo me è comunque una precauzione che può aiutare ad evitare che questo virus si diffonda così velocemente come si sta diffondendo comunque in Italia e in altri paesi. Qua si potrebbe anche aprire una polemica del fatto che comunque ci sono state molte persone che criticavano comunque la gente che si metteva le mascherine, tra cui il popolo cinese che lo vedevano come quasi una psicosi, questa cosa è una mascherina, io capisco mettere la mascherina ai cani perché anche quello ho visto, quella sì è veramente psicosi, però per quanto riguarda le persone insomma molte di questi che criticavano così tanto la comunità cinese o comunque asiatica che aveva deciso di mettersi la mascherina anche a Milano adesso sono i primi in fila e cercano di prendersi le mascherine, molto probabilmente. Questa è soltanto la mia opinione, però ditemi se non conoscete qualcuno che si è comportato esattamente così. Stessa cosa la gente che fino un attimo fa schifava i vaccini, sono sicuro che appena troveranno il vaccino per il coronavirus sarà lì il primo della fila che vorrà farsi vaccinare. Io vorrei dire soltanto che il Giappone ha preso le precauzioni, ne sta prendendo, le precauzioni stanno comunque anche aumentando, negli ultimi giorni a Osaka infatti sono stati chiusi un sacco di attività, ci sono molti meno ristoranti aperti, la gente comunque si lava molto più spesso le mani, lo vedete anche nei ristoranti, per esempio ieri sono andato a mangiare e mi hanno portato l'alcol, prima di iniziare ad aprire il menù, proprio al tavolo mi hanno portato l'alcol per pulirmi le mani. Poi si è parlato anche del fatto che non si mettono una mascherina, il punto è che adesso è molto difficile trovare le mascherine, quindi molto probabilmente se ci sono molti giapponesi senza maschera in questo momento, è perché hanno esaurito le scorte, ma non vuol dire che non c'è la paura per il coronavirus. Tra l'altro questa sarebbe anche la stagione del kafun show, quindi dei pollini, e in questo periodo i giapponesi hanno sempre la mascherina, quindi il fatto che non ce l'abbiano probabilmente non è determinato dalla non paura del coronavirus o dalla sicurezza che il Giappone abbia questa cura, di cui tanto si è parlato in questo video. Personalmente penso che sia così. Allora io non vorrei troppo soffermarmi sul farmaco perché sinceramente io non sono un medico, non posso dirvi se questo farmaco funziona o meno, c'è da dire che questa notizia è stata riportata comunque anche da dei giornali, non il video di questo ragazzo, dico la notizia del farmaco in sé per sé è stata riportata anche da molti giornali, anche importanti, e sembra che realmente qualche risultato ce l'abbia. Il discorso è che comunque al di là dei risultati o comunque dei vantaggi che può portare questo farmaco, la cosa che mi ha fatto comunque decidere di fare questo video è il fatto che comunque questo ragazzo abbia utilizzato questa notizia più o meno vera dell'efficacia di questo farmaco per inculcare della gente queste idee di complottismo e di governi che cercano di nascondere l'esistenza di un farmaco miracoloso che potrebbe guarire l'intera popolazione umana e sinceramente mi sembra un discorso decisamente più grande di lui e alla stregua delle scie chimiche, se devo essere sincero, personalmente penso così, questa è la mia opinione. Veramente questo video sta girando tantissimo, c'è gente arrabbiata con le case farmaceutiche italiane perché si rifiutano di vendere questo farmaco per ricavarci soldi, oppure c'è il governo giapponese che sta nascondendo l'esistenza di questo farmaco perché lo vuole tutto per sé, cioè sono state create tutte queste idee che secondo me non rispecchiano la realtà e sinceramente non è giusto che se ne parli in questo modo. In una fase come questa, così grave per il mondo intero, ma soprattutto per l'Italia, installare comunque dei dubbi nei confronti comunque delle nostre istituzioni, lo ritengo, se non si hanno comunque delle prove e delle certezze per sostenere quello che si sta dicendo, estremamente dannoso per noi tutti. Questo perché se noi iniziamo a avere comunque dei dubbi nei confronti delle nostre istituzioni, la gente inizierà a prendere delle scelte per controproprio, magari inizierà a credere che la quarantina non serve a nulla, inizierà a uscire per fare i jogging, andrà a incontrare gli amici al bar. In ogni caso, vabbè, spero che questo video vi sia stato utile, spero che, insomma, rivedrete adesso quel suo video se volete rivederlo o se volete diffonderlo, io vi sconsiglio in ogni caso con un'altra ottica. E grazie mille per aver visto questo video, vi ricordo che oggi a luna esce il mio nuovo music video sull'altro canale, andatevelo a vedere che almeno vi ascoltate una bella canzone. Mettetevi tutti a una certa ora a cantare sul vostro balcone questa canzone When You Fall Apart. Ci vediamo a luna e che faccio la premiere del video possiamo chattare tutti insieme. Ciao! Grazie mille per aver guardato il video,